Perché veramente non mi aspettavo di rientrare in Roma e questo devo tantissimo a Franco Pallini che mi ha riportato qui a casa perché io ho 27 anni di militanza, quasi più della metà dei miei anni, quindi lo ringrazio, non lo finirò mai di ringraziare e ringrazio anche Fabio Capello che mi ha dato il permesso di poter fare tutte e due le cose, soprattutto la fiducia accordatemi da Luis e tutto il suo staff che mi hanno accolto bene, poi ho avuto anche la fortuna di lavorare un anno in Spagna, quindi sono molto rimasto legato a quella terra. Grazie.